Allora siamo con Maurizio Franchi, responsabile del settore calcio, della scuola calcio della Giulia Nova, qui praticamente in casa vostra. Avete vinto questa categoria a 2011, se non sbaglio, una finale bellissima per 4-2. Intanto quali sono le prime emozioni? Vincere, vincere, conta poco a questi livelli. Conta la perfetta organizzazione del torneo, come sempre. Voglio ringraziare Giulietto Torre, voglio ringraziare Giampaolo, perché da sempre sono i più bravi ad organizzare questi eventi. Poi se i ragazzi si divertono perché ottengono delle vittorie, questo ci fa ancora più piacere. È giustissimo quello che dice lei, mister. Comunque una partita alla fine alla pari, decisa un po' nel finale, anche se il percorso della Giulia Nova l'ho seguito. Anche ieri le partite, un bel gruppo davvero, vi faccio i miei complimenti, soprattutto la ragazza davanti. Gioca veramente molto bene, speriamo che possiamo vederla magari a livelli nazionali. Allora, comunque ancora dei complimenti per il settore giovanile della scuola calcio, questo bellissimo impianto dove avete ospitato la competizione. E niente, speriamo di vederci il prima possibile. Grazie, grazie a voi e complimenti a tutti. Grazie mille, invocca al lupo. Grazie mille, grazie a tutti.